ariete a causa di plutone in quadratura dal capricorno se qualcuno volesse coinvolgervi in affari o collaborazioni incerte meglio non rischiare marte nemico continua ad essere fonte di disordine di prese di posizione un po troppo avventate toro con la luna un stile ad urano il vostro sex appeal accenderà le fantasie del partner anche se i momenti belli non metteranno a tacere e qualche dubbio avete un atteggiamento sempre distratto e distante rischiando di far allontanare chi vi vuol bene gemelli essendo nettuno malevolo nei vostri confronti tenderete a dirigere barriere difensive verso il mondo intero vigorosa la paura di imbroglie e delusioni marte un vostro alleato vi ritroverete a puntare di più sulla fiducia in voi stessi che negli altri cancro alcuni nodi che da lungo tempo vi tormentano si scioglieranno grazie ad un positivo imprevisto parola di urano che transita nel segno amico del toro con marte che vi rende intolleranti datevi una regolata se non volete diventare insupportabili leone non aspettate che siano gli altri a dovervelo dire quando arriva l'ora di mettere da parte l'eccessivo orgoglio sarebbe bene che vi censuraste da soli una certa irrequiettezza renderà l'atmosfera elettrica faticherete a ristabilire la calma e la tranquillità vergine per colpa di nettuno opposto dai pesci la vostra intuizione potrebbe non essere efficace rimandate a tempi migliori una trattativa di lavoro se siete single con una persona vivrete un bel trasporto ma terrete un atteggiamento di prudenza bilancia con la luna in trigona mercurio nel vostro cielo saprete esprimere come non mai i vostri profondi sentimenti alla dolce metà che se ne rallegrerà sfruttate l'aiuto di giove saturno per elaborare portare avanti i nuovi piani professionali scorpione saturno contro dall'acquario tende a ritardare la realizzazione di alcuni progetti a cui tenete tanto non perdetevi d'animo procedete con decisione non date ascolto a chi dice di aver bisogno del vostro sostegno non disponete di grandi energie e risorse sagittario per merito della luna favorevole a venere oggi vi troverete ad affrontare una situazione con una persona amica che vi darà una buona opportunità di crescita venere nel segno lasciate che con il partner dolcezza e disponibilità prevalgano su gelosia e sfiducia capricorno con marte ostile fate attenzione correte il rischio di operare qualche scelta un po irragionevole occhio a non fare il passo più lungo della gamba in vista di un visticcio familiare per una vostra maggiore voglia di libertà e autonomia non mollate acquario la luna in congiuzione crea una rete luminosa di aspetti con vari pianeti nel vostro cielo questo giovedì si presenta dinamico e movimentato la giornata sarà arricchita di impegni e iniziative senza però che venga intaccata la serenità di fondo pesci grazie a urano favorevole in toro realizzerete i cambiamenti che sono diventati urgenti e necessari rimanendo con i piedi ben piantati in terra in famiglia non strafate e non chiedete l'impossibile permettete a ognuno di darsi da fare come può